Perché spesso si conoscono poco ed è quindi mi fa piacere poter condividere anche la mia esperienza lavorativa. Condivido subito lo schermo. Allora, ecco qui. Perfetto. Ditemi se vedete la slide. Sì. Perfetto. Eccoci qua. Allora, grazie ancora per l'invito. Questa sera in realtà parleremo appunto di videogiochi per valorizzare cultura, storia e territorio, che sono concetti in realtà abbastanza nuovi all'interno del contesto diciamo culturale, perché associare videogiochi e cultura è ancora qualcosa che a volte può sembrare stonato a chi non conosce questo mezzo. Per cui cercherò un po' anche di darvi qualche coordinata introduttiva, proprio per introdurvi anche a che cos'è un videogioco e per arrivare poi al focus di questa lezione. È un universo di fatto quello dei videogiochi molto sfaccettato. Il primo problema che io mi trovo spesso ad affrontare è questa domanda che avete in questa prima riga, cioè conosciamo realmente i videogiochi? Perché spesso ne parliamo molto, ci fermiamo però spesso alla superficie, ci fermiamo agli stereotipi, agli pregiudizi, invece esistono tantissimi generi e tantissimi contenuti. Quindi anche i videogiochi, un po' come il cinema e la letteratura, hanno tanti generi, dall'avventura all'azione, al fantasy. Quindi hanno un'offerta molto varia di contenuti che poi si declina in tante forme, giochi più commerciali, giochi indipendenti. Un po' le stesse categorie che valgono anche per gli altri mondi della musica, per esempio, penso alla musica indipendente o al cinema indipendente. Quindi sicuramente è un universo molto ricco che è importante quindi conoscere e approfondire. Appunto, non è solo intrattenimento, ecco, il punto è che spesso si pensa al gioco come un'attività di puro intrattenimento. In realtà vediamo, che vedremo oggi, che possono essere anche strumenti di divulgazione, che l'intrattenimento non per forza, diciamo, contraddice le finalità divulgative, anzi, l'intrattenimento può essere anche uno stimolo per conoscere qualcosa di nuovo. Poi mi sono posto una domanda che spesso si trova, meglio un libro o un videogioco? Ecco, domanda sbagliata. Nel senso che non esiste qualcosa, un libro non è meglio di un videogioco a prescindere, come un film non è meglio di un libro, non esiste un meglio e un peggio. Esistono libri di qualità e libri non di qualità, giochi di qualità e giochi non di qualità. Questo lo dico perché a volte c'è l'idea che sia sempre e comunque meglio leggere. Certo, leggere è una pratica molto utile, ma dipende anche da quel che si legge, così come dipende da quel che si gioca, di fatto. C'è poi una meredizione, diciamo, che sta intorno alla parola gioco, perché il concetto di gioco viene visto normalmente come qualcosa di non serio. Anche nei detti popolari, ah, lo ho fatto per gioco, come se fosse qualcosa che si contrappone alla serietà. Mentre il concetto di gioco è qualcosa di molto serio, si gioca sempre, in tutta la vita, ed è un'attività importante e formativa, per cui purtroppo forse il videogioco patisce questo essere gioco. E quindi a volte questo noto che può un po' creare un pregiudizio rispetto a questa attività. E poi vediamo che c'è un pubblico, adesso vi mostrerò un paio di dati, un pubblico molto trasversale, un mercato in crescita. È bene considerarlo perché il videogioco si è imposto come mezzo di comunicazione, come oggetto utilizzato, ed è giusto far accettare questa cosa in un certo senso e semmai rendersi consapevoli rispetto a questo strumento. Vi mostro giusto un paio di dati molto recenti legati al mercato, che nel 2020 ha avuto una grande crescita. Purtroppo devo dire che questa crescita l'ha avuta anche grazie al Covid, perché chiusi in casa le persone hanno giocato di più. Però devo dire che questa crescita era già iniziata prima, ma stava già, quindi era già in corso, perché è un mercato che cresce. E guardate a destra in particolare se guardiamo chi gioca. Ecco, in Italia giocano maschi e femmine, quindi anche questo ha fatto un po' l'idea che sia uno strumento generalmente rivolto a un pubblico maschile. Ma vediamo anche l'età. Dicevo, è un pubblico trasversale, un pubblico quindi che va dalla giovane età, ma si gioca fino all'età adulta. Vedete anche l'ultima fascia. Quanti giocatori abbiamo tra i 45 e i 64 anni in Italia? Questo è interessante, vi dimostra quello che dicevo, cioè che tutti giocano, che non si smette di giocare crescendo, e un po' questi dati legati al pubblico italiano ce lo raccontano. Vi do giusto un contesto rispetto a quello che faremo oggi, perché appunto la domanda che ci poniamo è può un videogioco raccontare la cultura del territorio? Quindi vi darò, in queste due slide che arriveranno, sia il contesto in cui si colloca questo tema, ma anche un po' la metodologia che affronteremo. Innanzitutto partiamo dal contesto. Ci sono due tendenze ormai consolidate. Da una parte c'è questo percorso di crescita e maturazione del pubblico. Abbiamo visto un pubblico trasversale, anche dell'industria del videogioco. Dall'altra c'è una tendenza consolidata che riguarda appunto l'idea che il patrimonio possa essere valorizzato con benefici sul fronte del turismo e quindi del marketing territoriale attraverso l'audiovisivo. E qui ho citato il cineturismo. E vi ho messo nella slide 4 immagini, quella del centro non è un film, ma le altre 4 sono opere audiovisive legate al cinema e alla televisione. Montalbano, per esempio, ha avuto un beneficio reale sulla provincia di Ragusa che ha visto dal 99 raddoppiare i suoi visitatori, da 572 mila visitatori nel 99 a più di un milione nel 2018. E sicuramente i dati dimostrano che l'effetto Montalbano ha prodotto un beneficio perché le persone che hanno visto la serie TV hanno poi desiderato andare a vedere i luoghi di Ragusa dove si ambienta. Poi c'è, forse alcuni la riconoscono, qui andiamo in realtà nel Regno Unito, andiamo nel Hampshire, è il castello che fa da sfondo ad Antonebby, una serie TV che io personalmente ho apprezzato molto. Dopo la messa in onda delle puntate, i visitatori sono praticamente quintuplicati, quindi che volevano appunto vedere questo castello. Poi c'è Checozzalone, anche Quovado, enorme successo in Italia nel 2016, ha avuto un effetto interessante. Nello stesso anno, in Norvegia, c'è stato un aumento di turisti italiani del più 39%, perché la Norvegia era una delle... cioè il film si ambienta in parte anche in Norvegia. Infine abbiamo The Passion, di Mel Gibson, a Matera, che ha prodotto, nell'anno successivo all'uscita del film, un incremento di arrivi internazionali a Matera del più 144%, grazie al film di Mel Gibson. Dal cine e turismo è un fenomeno molto studiato, ci sono tantissimi dati, oggi vengono giusto citati alcuni, però per dirvi che l'audiovisivo, vi è dimostrato, produce un ritorno sul territorio. Quindi questo è un po' il contesto da cui poi partiremo. Dall'altra vi parlo un po' di metodologia, perché il punto è un po' questo, l'idea che uno potrebbe chiedersi, un gioco che vuole raccontare il territorio, tendenzialmente mi immagino essere un gioco educativo. Invece, qui lo vedete in questa slide, secondo il game designer americano James Portnow, i videogiochi educativi spesso falliscono perché vogliono insegnare qualcosa. È molto più interessante la cosiddetta teoria dell'apprendimento tangenziale, che si basa sui concetti di stimolo e di interesse. Cioè una persona, qualora stimolata, incuriosita da un'esperienza ritenuta interessante, può essere spinta ad approfondire in autonomia i contenuti incontrati. E quindi questa è un po' la chiave di lettura che guiderà il nostro percorso oggi, cioè quelli che vedremo oggi sono esempi di videogiochi che raccontano il territorio italiano, ma sono giochi non educativi, sono giochi commerciali, quelli che normalmente vengono usati dagli appassionati. E questa secondo me è la chiave corretta, perché quel tipo di giochi può funzionare molto di più perché non vogliono insegnare, ma possono stimolare, stimolare un interesse verso un contenuto specifico. E vi faccio subito un esempio emblematico, che è quello di Assassin's Creed. Appunto, Monteriggioni è l'effetto Assassin's Creed. Assassin's Creed 2, poi vedremo anche un filmato tra poco, è un videogioco del 2009 che si ambienta nel rinascimento italiano e nel gioco sono ricostruite alcune città italiane, Venezia, Firenze, Monteriggioni, San Gimignano e Forlì. Ecco, nell'agosto 2016 il comune di Monteriggioni ha promosso un'indagine e ha chiesto a 500 turisti che erano appunto in agosto a Monteriggioni, ha fatto alcune domande, c'era una che riguardava anche Assassin's Creed. E l'11,4% ha risposto di aver conosciuto il borgo, quindi di essere quindi a Monteriggioni grazie al videogioco. E ci pensate, questo esempio racchiude un po' le due strade precedenti, cioè un audiovisivo che di fatto ha un impatto turistico su un borgo italiano, dall'altra un gioco che di fatto è totalmente commerciale, Assassin's Creed non è un gioco educativo, è un gioco commerciale, lo vedremo perché poi nel nostro viaggio tra gli esempi tornerà, però appunto ha avuto un impatto perché ha spinto, ha stimolato un interesse, ha spinto qualcuno a voler prendere l'auto ed andare a Monteriggioni. Questo è un dato interessante, ma c'è anche il dato di Mirasna, un piccolo gioco per smartphone legato ai musei italiani, ai parchi archeologici di Toscana, Umbria e Lazio. È un piccolo gioco strategico dove si devono gestire appunto che riguarda la civiltà etrusca, che consente anche al proprio interno di visualizzare reperti etruschi provenienti da questi musei, da questi parchi archeologici, di rispondere a dei quiz sulle città etrusche. Interessante il fatto che i musei coinvolti sono entrati in una mappa speciale del gioco, per cui se un utente che giocava a Mirasna andava in quel museo, attivava il GPS e si geolocalizzava, poteva sbloccare dei punti da utilizzare nel gioco. Il gioco è uscito nel 2018 e al 2020 abbiamo più di 20.000 persone che sono andate nei musei, più di 50 musei partner di questo gioco, e sono geolocalizzati per sbloccare punti da utilizzare nel gioco. Altro dato molto interessante. Quindi quello che un po' sta emergendo è che esiste anche una forma di turismo videoludico, che si declina, quindi che un po' si affianca al ceneturismo, e si declina, qui l'ho sintetizzato, in tre modalità. C'è il turismo indotto dal gioco, quindi quel turismo che induce chi gioca ad Assassin's Creed ad andare poi a visitare Monteriggioni. Però c'è anche un turismo che è interno al videogioco. Cioè voi pensate una cosa, ancora prima di andare nel luogo reale, si è turista all'interno del gioco, si esplora Firenze, si esplora Monteriggioni all'interno del gioco. Poi nel caso di Assassin's Creed 2 c'è da dire che Monteriggioni è ricostruita parzialmente fedele alla realtà e parzialmente no, perché di fatto è un'opera di fiction, non è un documentario. Però per esempio io ho giocato anche ad Assassin's Creed Unity, ambientato durante la rivoluzione francese a Parigi, passavo più tempo a girare per strada di Parigi, a fare foto a Parigi che non a giocare. Facevo il turista, quindi smettevo di giocare per osservare la bellezza di Parigi ricostruita. Quello è un turismo interno al videogioco, che tra l'altro in epoca Covid è stato un po' un'alternativa a quel turismo che non potevamo purtroppo fare nella realtà. Poi un po' collaterale c'è il turismo intorno al videogioco, cioè quello che riguarda eventi a tema, per cui qualche anno fa, per esempio, fecero a Milano, al Museo della Scienza e Tecnologia, una mostra dedicata ad Assassin's Creed. Quindi io andavo a Milano, al museo, per vedere quella mostra. In quel caso il museo non è scenario di Assassin's Creed, ma io vengo spinto ad andare a Milano, al museo, perché sta ospitando una mostra a tema Assassin's Creed. Quindi qui vi ho un po' condensato quello che è il fenomeno di cui si parla sempre di più, che è il cosiddetto turismo videoludico e si affianca appunto al cineturismo. Io mi occupo appunto di, vi provo questa associazione che si occupa, si impegna ad agevolare lo sviluppo di videogiochi ambientati in Italia o legati alla cultura italiana. Abbiamo due anni fa somministrato anche noi un questionario a 827 partecipanti, in particolare ai giocatori e giocatrici di videogiochi, per capire un po' cosa ne pensavano di questo fenomeno. Ed è emerso che praticamente l'80% si è dichiarato pronto a diventare turista videoludico, cioè desiderava visitare un luogo visto all'interno di un gioco. Poi ce li hanno anche citati, quindi c'è tutto un articolo dove abbiamo poi analizzato i dati, che vi ho un po' sintetizzato, però l'80% desiderava visitare un luogo visto in un gioco. E il 92% ha definito il videogioco uno strumento utile per incentivare il turismo e la scoperta del patrimonio artistico e culturale. Questo perché per molti di loro il videogioco ha un aspetto determinante, la componente immersiva. Io sono immerso in quei mondi, li esploro, li vivo in prima persona e questo, secondo molti di loro, nelle risposte libere, estendeva la possibilità dei luoghi, perché appunto concedeva ai luoghi una vita anche digitale, che poi può diventare anche una vita reale, la scoperta del luogo fisico. Quindi, dicevo, questo è proprio un po' di contesto di quello che è il turismo videoludico, un fenomeno, secondo me, se ne parlerà sempre di più. Noi, come IviPro, vi dicevo, non solo agevoliamo lo sviluppo di giochi inventati in Italia, ma cerchiamo anche di fare ricerca. Stiamo costruendo una mappa dei giochi già realizzati, inventati in Italia, suddivisi per regione, e anche un database di luoghi che possano diventare invece spunto per futuri videogiochi. Oggi in realtà mi concentro soprattutto sulla mappa, perché vorrei fare con voi un viaggio all'interno proprio di alcuni esempi di videogiochi inventati in Italia, perché poi anche, secondo me, è bello vederne alcuni esempi, vi mostrerò anche qualche video. Tra l'altro la mappa dei giochi di IviPro, che è disponibile, se andate sul sito di IviPro, che è ivipro.it, comunque magari poi in chat vi metto il link, che nella mappa dei giochi di IviPro potete appunto navigare cercando per regione i giochi che vi sono ambientati. Ecco, questa mappa, che è in continuo aggiornamento, al momento conta più di 200 giochi, ci ha fatto piacere perché qualche anno fa una selezione della mappa è confluita all'interno del portale Italy for Movies, che è un portale del Ministero dei Beni Culturali, che è poi il portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione audiovisiva. E quindi ci ha fatto piacere perché se ora andate su Italy for Movies, quindi di fatto un portale che nasce per volere del Ministero, è fatto con l'Istituto Luce Cine Città, trovate non solo la mappa dei film e delle serie TV ambientate in Italia, ma anche dei videogiochi. Ed è, secondo me, un segnale importante, cioè trovare accanto alla grande bellezza anche Assassin's Creed 2. Mi fa capire quanto, un po' alla volta, pur con le difficoltà dovute, forse ai pregiudizi che dicevo all'inizio, anche il videogioco stia venendo riconosciuto come opera audiovisiva e culturale, soprattutto, comunque anche divulgativa, che ha al proprio interno contenuti, come dicevo all'inizio, molto variegati. Quindi questo per dirvi che c'è un fermento anche culturale, anche di riconoscimento pubblico, che io trovo importante, perché di fatto si gioca molto, l'abbiamo visto, ed è importante, visto che si gioca molto, anche parlarne, acquisire consapevolezza, quindi diffondere una cultura del videogioco a più livelli, sia a livello scolastico che anche a livello, diciamo, pubblico e anche politico. Quindi, prima di iniziare però questo viaggio tra i giochi ambientati in Italia, ovviamente ne ho selezionati alcuni, ho messo anche un po' di Emilia-Romagna, ovviamente, quindi vedremo anche esempi di giochi legati, ambientati in Emilia-Romagna. Vediamo questa cartina, che è la mappa dell'Italia nei videogiochi, e quindi le regioni più rappresentate nei videogiochi già in commercio, quindi già disponibili. Cosa vediamo in questa mappa? Vediamo che le regioni più rappresentate sono Toscana, Veneto e Lazio, le prime tre. Poi vengono Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Sicilia, e così via. Purtroppo non ci risultano al momento videogiochi ambientati in Calabria e in Molise, anche se recentemente mi pare essere uscita un'app videogioco che è legata ad un comune del Molise, per cui forse la cartina va aggiornata, stiamo un po' indagando, stiamo facendo degli approfondimenti. Però torniamo alle prime tre, quindi quelle che hanno più di 35 giochi ambientati su quel territorio. Quindi dico ambientati, che hanno come scenari luoghi del Veneto, della Toscana e del Lazio. È facile capire perché. Qui parliamo di giochi già realizzati in tutto il mondo, quindi di giochi fatti anche da aziende internazionali. È chiaro che quando si vuole utilizzare l'Italia come scenario di un videogioco, tendenzialmente gli stranieri hanno l'occhio da turista, vanno a prendere quelle location più rinomate, sono comunque giochi commerciali, per cui è ovvio che è più facile utilizzare Venezia, utilizzare Roma, utilizzare Firenze, perché sono luoghi anche più commercialmente strategici, proprio perché nel mondo esiste un immaginario italiano turistico che ha a che fare soprattutto con quelle regioni, con le città d'arte italiane. C'è un dato interessante. Mentre il Veneto è Venezia centrico, quindi abbiamo, anzi partiamo da Lazio, che è la regione con più giochi, mi sono segnati, il Lazio ne ha 61 di giochi ambientati in Lazio, di cui 53 ambientati a Roma. In Veneto sono 50, di cui 40 ambientati a Venezia. Vedete quindi che il Lazio e il Veneto sono molto Roma centrici e Venezia centrici. La Toscana fa un po' storia a sé, perché dei 45 giochi ambientati in Toscana, solo 21 si ambientano a Firenze. Anche questo però, quindi non è Firenze centrica la Toscana a livello di rappresentazione nei videogiochi. Anche questo dato è abbastanza, secondo me, chiaro il perché. La Toscana nell'immaginario collettivo, al di là anche del nostro paese, non è solo Firenze, c'è anche la campagna toscana, le città come Siena, come Pisa, ecco, Pisa, per esempio, è molto rappresentata nei giochi giapponesi. I giapponesi amano molto Pisa, e la Torre di Pisa in particolare, e la inseriscono in tantissimi giochi, addirittura la inseriscono in giochi, in scenari in cui la Torre di Pisa non c'entra nulla, per farvi capire, creando quasi proprio dei falsi. Però per dirvi che la Toscana ha una rappresentazione più variegata del proprio territorio, a differenza di Veneto e Lazio. Cioè, nonostante vediamo una rappresentazione dell'Italia nei videogiochi molto stereotipata. Questo perché in questa cartina li abbiamo considerati tutti. Se però consideriamo i giochi realizzati dai nostri studi, dai nostri sviluppatori, proprio da produttori e sviluppatori italiani, vediamo e vedremo anche negli esempi che arriveranno tra poco, che c'è una sensibilità verso anche storie fuori dai giri, dai detinerari turistici classici, di regioni che normalmente sono meno turistiche nell'immaginario collettivo a livello globale. Quindi è interessante vedere anche come i nostri creativi, giustamente, utilizzano l'Italia in maniera più, tra virgolette, originale, rispetto allo stereotipo che questa cartina mostra. Quindi questo, secondo me, è un bel segnale anche del contesto positivo in cui i nostri creativi si trovano, di voler raccontare anche un'Italia differente, è un'Italia alternativa rispetto a quella più stereotipata degli itinerari turistici classici. Temo restando che Venezia è sempre bellissima, per cui raccontarla nei videogiochi non credo ci stancheremo mai, però sarebbe anche bello poter raccontare storie più locali, storie più piccole. Ne vedremo alcune tra poco. Partiamo un po' facciamo insieme questo breve viaggio e partiamo da Assassin's Creed che ho già citato, ma qui ci addentriamo un po' di più nel gioco. E ora vi mostrerò anche un filmato perché Assassin's Creed 2 si ambienta, come vi dicevo, nell'Italia del Rinascimento. Il protagonista veste i panni di Ezio Auditore, come potete leggere, che è un giovane di origini fiorentine che dovrà giocare alla propria parte in questo eterno conflitto tra gli assassini e l'ordine dei Templari. Quindi capite, è un gioco di fiction, è un gioco, non è un gioco, non è un documentario, però ambientato nel secondo capitolo dell'Italia del Rinascimento. Ezio incontrerà, come vedete in questa slide, diversi personaggi storici realmente esistiti, tra cui Leonardo da Vinci, Machiavelli e anche Caterina Sforza. Tanto Caterina Sforza in particolare ve la cito perché ci porta a Forlì, quindi vedremo adesso anche tra poco un'immagine della Rocca di Ravaldino. Però adesso vi mostro un breve filmato che dura un paio di minuti per chi di voi non avesse mai visto Assassin's Creed, vi ho preso un breve pezzo di gioco che si ambienta appunto a Firenze. Vedrete il protagonista che si arrampica su Santa Maria del Fiore osservando Firenze dall'alto. Per cui passo ai video, eccolo qui, Assassin's Creed. Eccolo qui. Abbasso il volume, tanto il volume qui non serve. Qui si intravede il protagonista che girovaga per Firenze. Tanto a mente si gioca, si possono anche sbloccare delle schede informative sui monumenti. Questo è interessante perché il gioco non è educativo, però potete in qualsiasi momento accedere a delle schede informative sui monumenti che avete incontrato lungo il vostro, lungo la vostra avventura. In questo caso il protagonista si arrampica letteralmente sulla facciata di Santa Maria del Fiore che all'epoca non era ancora completata perché questo è interessante. Il gioco, premetto, ha degli errori storici, non è appunto un documentario ma è un gioco di fiction. Non deve essere, non è fatto per essere educativo né per essere un libro. È fatto però, come dicevamo all'inizio, per eventualmente stimolare un interesse verso dei contesti, verso dei personaggi. Mi immagino che avendo avuto anche molto successo molte persone possono aver cercato di capire dettagli in più sul campanile di Giotto, su Santa Maria del Fiore, su Palazzo Vecchio che adesso si è intravisto ma lo vedrete meglio appena Ezio si arrampicherà sopra al campanile di Giotto. Capite? Quindi torniamo al punto di partenza, quello che dicevo, l'apprendimento tangenziale. Il gioco non ti vuole insegnare qualcosa ma può stimolare un interesse. Io in prima persona che per lavoro mi trovo a giocare, più volte mi sono informato e ho letto libri perché incuriosito da cose viste all'interno di alcuni giochi. Ecco, lì vedete Palazzo Vecchio, quindi qui c'è proprio Firenze ricostruita, ovviamente in una versione un po' più piccola, dicevo, con delle licenze poetiche, ma è comunque affascinante questo viaggio nella Firenze del Rinascimento, per cui esempio il protagonista partecipa anche alla congiura dei pazzi, per esempio, quindi ci sono anche eventi storici ricreati all'interno del gioco. Poi vabbè, qui lo stop, solo per mostrare un po' anche a chi magari non conoscesse bene, non l'avesse mai visto, quello che può essere ricostruire l'Italia all'interno di un gioco e di renderla poi di fatto esplorabile, liberamente esplorabile all'interno appunto, girovagando per i viottoli, per le vie delle nostre città. Qui per esempio vediamo uno scorcio di San Gimignano con le sue torri molto riconoscibili, sempre appunto ricostruito all'interno di Assassin's Creed 2. Poi vi dicevo prima la rocca di Ravaldino che appunto a Forlì dove si sita una parte importante del gioco perché appunto qui il giocatore incontra Caterina Sforza che sotto assedio da parte di Cesare Borgia quindi anche personaggi storici e rimandi ad eventi storici realmente accaduti. Quindi capite? Ad esempio io personalmente non sono mai stato a Forlì, non ho mai visitato la rocca di Ravaldino, ma è nella mia lista dei desideri diciamo proprio perché mi ha incuriosito vedere questo evento raccontato all'interno di Assassin's Creed. Quindi questo era un primo esempio che volevo farvi anche il più celebre diciamo perché Assassin's Creed è probabilmente l'esempio più celebre di videogioco ambientato in Italia perché è prodotto comunque da una grande major quindi un gioco un grande blockbuster da un budget milionario che ha avuto anche un ritorno di pubblico di un certo di un certo livello per cui è giusto anche fare queste precisazioni perché i giochi un po' come i film hanno dei grandi budget e quindi sono delle opere da budget milionari come Assassin's Creed e anche piccoli giochi fatti con budget molto più contenuti quindi mari più piccoli nelle ambizioni ma ciò nonostante possono essere interessanti a livello di racconto di narrazione anche del territorio e adesso ne vedremo anche alcuni di arriveremo appunto ad alcuni esempi di giochi indipendenti perché appunto Assassin's Creed non è un gioco indipendente è un gioco come si dice nell'ambiente videoludico AAA che sono appunto i grandi blockbuster è un po' il corrispettivo di un film di Steven Spielberg ecco per fare un esempio cinematografico passiamo ad un altro esempio Final Fantasy XV serie di giochi di ruolo giapponese molto famose infatti qui ho scritto l'amore dei giapponesi per Venezia è vero che in molti giochi giapponesi Venezia viene citata o presa ad ispirazione in questo caso specifico infatti quella che avete nella foto adesso vi mostrerò anche altre due immagini non è Venezia si chiama Altissia però come vedete in questa slide Altissia è ispirata alla nostra Venezia non solo perché nel gioco viene chiamata la città sull'acqua ma appunto anche perché come potete leggere canali, ponti, architetture rimandano al capoluogo veneto la cattedrale di Altissia è modellata su San Marco e c'è una location ispirata a riva degli schiavoni che è quel lungomare che collega piazza San Marco all'arsenale e qui ve le mostro a sinistra c'è la cattedrale del gioco che di fatto è San Marco c'è un'ispirazione palese e a destra c'è questa location che ricorda molto riva degli schiavoni con appunto a sinistra c'è il mare a destra i tipici palazzi veneziani in questo caso a differenza di Ravaldino dove vi ho messo Rocca di Ravaldino Forlì non vi ho messo alcun nome perché di fatto questa non è l'Italia non è una location italiana specifica però c'è un'ispirazione un'ispirazione esplicita per nulla nascosta quindi raccontare l'Italia non vuol solo dire raccontare luoghi specifici reali ma anche prendere ispirazione dal nostro patrimonio architettonico urbanistico e culturale come viene fatto nel caso di Final Fantasy XV gioco come Assassin's Creed grande blockbuster così come Uncharted 4 Uncharted 4 si ambienta in una parte del gioco in una missione sulla costiera amalfitana la serie di Uncharted ha per protagonista Nathan Drake con cacciatore di tesori chiaramente ispirato a Indiana Jones in Uncharted 4 Nathan approda anche in Italia sulla costiera amalfitana deve filtrarsi all'interno di una villa finzionale quindi questa villa non esiste è una villa fittizia sullo sfondo del golfo di Salerno è un piccolo pezzo del gioco quindi questo gioco non si ambienta in Italia ha una missione che si ambienta in Italia ma perché ve l'ho citato perché mentre stavo giocando a Uncharted 4 e in uno dei livelli del gioco in una delle missioni mi ritrovo in una casa museo in un flashback dove il protagonista bambino si avventura in una casa museo piena di reperti tra i reperti conservati nella casa mi imbatto quindi questo screenshot l'ho fatto io mentre stavo giocando mi imbatto in questo in questo sarcofago che dito me l'ho già visto questo sarcofago in realtà infatti è il sarcofago degli sposi tornando ancora una volta agli etruschi conservato a Roma al museo etrusco di Villa Giulia e anche in un altro esemplare al Louvre di Parigi ha dopo aver fatto anche ricerche approfondite perché poi ho osservato il modello nel gioco e mi sono accorto che all'uomo manca una mano se osservate attentamente quindi il modello del gioco è ispirato a quello che è al sarcofago che è all'Uvre perché il sarcofago che è all'Uvre in effetti manca la mano all'uomo mentre il sarcofago che c'è a Roma non ha la mano piccoli dettagli però mi è talmente incuriosito che poi appena sono andato a Roma con impegni ho detto faccio una capatina al museo di Villa Giulia per vedere il sarcofago vero e che tanto è bellissimo se vi capita ora che tanti musei stanno riaprendo per fortuna se vi capita è un bellissimo museo è una bellissima villa e il sarcofago è un oggetto veramente incredibile però per dirvi vi ho messo uncharted per questi piccoli dettagli che a volte emergono e in un certo senso durante l'esplorazione arricchiscono la nostra osservazione dei luoghi diventiamo anche noi un po' archeologi scopriamo delle cose che magari non erano neanche più di tanto pubblicizzate non è che fosse stato questo sarcofago io l'ho scoperto per caso non è che fosse pubblicizzato in uncharted o troverete il sarcofago degli sposi anche questa è la cosa bella essere attivi come giocatori e giocatrici e accorgersi di dettagli che in questo caso rimandano al nostro patrimonio archeologico io ho fatto tre esempi di grandi giochi multimilionari fatti da aziende straniere francesi franco-canadesi nel caso di Assassin's Creed giapponese nel caso di Final Fantasy XV e americano californiano se non sbaglio nel caso di Uncharted adesso però arriviamo a degli esempi più vicini a noi nel senso di produzioni fatte in Italia quindi fatte da creativi da studi italiani e ambientate in Italia e partiamo con un gioco che io devo ammettere cito sempre perché lo amo tantissimo per quanto ce lo amo per la bella operazione che hanno fatto il gioco in realtà è un gioco di grande sofferenza devo dire però è un'operazione bellissima a livello di scopo nel senso che The Town of Light adesso vi mostrerò un breve video parla della malattia mentale in Italia prima della legge Basaglia si ispira quindi a fatti di cronaca realmente accaduti e la protagonista è un ex paziente che si ritrova oggi a manicomio di Volterra oggi abbandonato oggi è una cittadella abbandonata chiusa al pubblico a volte la aprono per le viste guidate ma normalmente è chiusa e deve esplorare i luoghi in cui lei è stata internata e nel fare questa esplorazione nel esplorare questi luoghi riscopre il proprio passato fatto anche purtroppo di violenza di abusi cioè gli sviluppatori del gioco hanno fatto un sacco di ricerche sui libri per capire qual era la condizione dei malati mentali in Italia prima che la legge Basaglia progressivamente chiudessi i maniconi e hanno fatto un lavoro quindi molto attento di ricerca sia del contesto sociale e storico ma anche di ricerca dei luoghi loro hanno proprio fatto dei sopralluoghi per ricostruire con attenzione uno dei padiglioni il padiglione sciarcò adesso in un video dimostro un video che mette a confronto il padiglione come appare oggi abbandonato e il padiglione ricreato all'interno del gioco vi dà un po' l'idea di quanto di quanta cura ci può essere molto spesso nella costruzione di questi di questi di queste ambientazioni di fatto adesso vedrete in questo video che sta partendo a sinistra il luogo reale come appare oggi abbandonato e a destra il luogo ricostruito ricostruito ovviamente con aggiunte di mobilio ma vedete con un'attenzione al rispetto della planimetria del padiglione per cui hanno fatto proprio dei sopralluoghi per ricostruire poi le ambientazioni del padiglione sciarco all'interno del gioco io trovo queste operazioni molto belle e molto importanti perché poter parlare di malattia mentale anche attraverso un videogioco è qualcosa che non viene fatto spessissimo e qui in particolare è fatto con molta attenzione e molta sensibilità proprio perché si è voluto fare ricerca leggere documentarsi fare sopralluoghi per arrivare poi a costruire questa esperienza di questa paziente che ritorna all'interno del manicomio e rivive con dei flashback il proprio passato ci teniamo a mostrarvi questo questo confronto anche perché è interessante vedere anche la cura come dicevo nella ricostruzione poi ovviamente non vi farò alcuno spoiler oggi se vi capita di giocarlo il gioco ve lo consiglio è doloroso non tanto non è un gioco horror non c'è nessun tipo di paura di nemico è un gioco esplorativo e narrativo ma è doloroso per quel che racconta e il finale in particolare che ribadisco non vi svelo l'ho trovato anche doloroso perché diciamo che fa capire anche le nostre responsabilità ecco non aggiungo altro perché so che lo spoiler non è mai una cosa bella quindi però per dirvi in questo caso un piccolo gioco italiano poi nemmeno così piccolo però comunque un gioco indipendente che sì si ambienta in Toscana ma sceglie un luogo nel cambio di Volterra che sicuramente è fuori dagli itinerari turistici e comunque non è un luogo tipico della rappresentazione dell'Italia nei videogiochi che generalmente invece va a preditare città d'arte più note e certo tende a meno nei grandi blockbuster ad evitare questi racconti un po' più complessi il secondo gioco che vi cito è sempre legato e anche di questo adesso vi mostro il trailer è sempre legato ovviamente come tutti i giochi che cito oggi al nostro paese in questo caso è un gioco sul tema della memoria della resistenza in Italia 20 mesi come potete leggere è una collezione di storie interattive sulla resistenza e la liberazione dal natifascismo e vi riporto appunto dal sito ufficiale la descrizione 20 mesi fatidici 20 storie ispirate a fatti realmente accaduti sul territorio di Sesto San Giovanni ed intorni durante la seconda guerra mondiale infatti 20 mesi sono 20 piccole storie proprio legate ad eventi realmente accaduti tra l'altro se vi interessa il gioco è anche gratuito perché è un gioco fatto su commissione cioè Copp Lombardia insieme al comune ha voluto finanziare un videogioco che raccontasse questi eventi e vi assicuro che quindi la cosa bella è che è gratuito io l'ho usato anche a scuola a volte perché è un gioco abbastanza breve dura circa un'oretta che però può far riflettere in maniera però ludica a partire da una dimensione ludica è una visual novel un racconto interattivo quindi abbastanza anche facile da giocare perché si tratta di leggere dei testi di decidere un po' che tipo di risposte dare e far progredire la narrazione non è un gioco complesso quindi anche per questo lo consiglio anche a chi magari non è avvezzo ai videogiochi però per dirvi i giochi possono i giochi possono fare anche memoria anche con risultati molto molto diciamo efficaci e di buona anzi ottima qualità come nel caso di 20 mesi vi mostro anche qui un breve trailer del gioco che vi dà anche l'idea di come sia bello a livello di illustrazioni perché il gioco è fatto di illustrazioni animate molto belle secondo me quindi volevo un po' mostrarvi ecco qui il trailer a livello del gioco a livello del gioco a livello del gioco la 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devi andare ai musei per sbloccarli, inquadrando questo codice. Grazie a tutti. 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 Addirittura la locandina del gioco è una tela e ha dipinto i quadri inseriti all'interno del gioco. Tra l'altro quadri dipinti su tela ma anche su legno, come nel caso del ritratto della protagonista Ida. Quindi c'è già un elemento anche di inserimento di opere reali all'interno di un gioco digitale. Però la parte secondo me più interessante è il lavoro di ricostruzione. Perché siamo partiti, mi dico siamo perché è stato un lavoro che abbiamo seguito anche noi come libro andando insieme agli sviluppatori. Io stesso poi come dicevo ho lavorato anche un po' la ricostruzione del paese. Siamo andati a Curon più volte, visitato il museo del paese che contiene un modellino in scala del vecchio borgo. Quindi abbiamo preso spunto da questo modellino per ricreare alcune location del vecchio borgo che non esiste più. Quindi è anche bello pensare che il vecchio borgo invece esiste ancora in un videogioco. Nella realtà non c'è più ma nel videogioco esiste. È esplorabile. Nel gioco trovate la chiesa di Santa Catarina d'Alessandra che era accanto al Campanile, andata distrutta. Gli alberghi, traube, poste, golden e rader, distrutti ma ricostruiti nella nuova Curon. E la chiesetta di Sant'Anna che è tutt'oggi esistente. Oltre al Campanile è sopravvissuta questa chiesetta che è poco lontana dal Campanile, che si può visitare a piedi proprio su un cento metri. E nel gioco viene ricostruita. Ora vi mostro l'immagine di uno degli scenari del gioco, dove il gioco è fatto tra l'altro in voxel. È fatto a cubetti. Un po' come Minecraft, per chi conosce il mondo di Minecraft. Però è fatto a cubetti, però con uno stile realistico. Il cubetto normalmente non è realistico. Abbiamo voluto giocare su questo contrasto estetico. Perché? Perché il gioco parla di contrasto e di conflitto tra culture. Abbiamo quindi voluto riportare questo conflitto anche ad un livello estetico, tra il cubetto e il realismo, o comunque pseudorealismo. Tant'è che quando Tommaso, il protagonista, arriva a Curon nel passato, lui è italiano, i curonesi non lo vedono bene. Gli dicono, cosa vuoi forestiero? Voi italiani state già facendo molti danni qui a Curon, perché ci sono i lavori in corso della diga. Lui deve integrarsi. È un gioco molto complesso anche di integrazione tra i personaggi, perché lui è un forestiero che arriva in un posto dove lui non è visto bene in questo luogo. Quindi vedete in questa immagine, vedete là sopra, sulla collina, la chiesetta di Sant'Anna. E questa è una foto d'epoca, della stessa chiesetta sopra la collina, con la casa che c'è lì sotto, che nel gioco è quella casa sullo sfondo. Si intravedono anche sulla facciata due dipinti, due affreschi, che sono realmente conservati al museo, perché prima di distruggere quella casa, nel 50, portarono in salvo quegli affreschi, che si intravedono anche in questa foto d'epoca, e sono al museo oggi. Noi li abbiamo invece inseriti nella casa, ancora esistente nella vecchia Curon del gioco. Questo è il campanile, come era in origine. Accanto c'era l'albergo Traube Post. Oggi c'è solo il campanile che emerge dall'alba. Quindi questo è uno scorcio del paese, questo è uno scorcio della piazza che conduce al campanile, qui vedete anche i personaggi, i fatti di Cubetti. L'idea è proprio quella del contrasto visivo. E qui vedete una foto d'epoca. Vedete il campanile sullo sfondo, l'albergo Traube Post, la stessa piazza con quella fontana, che infatti è anche qui nel gioco. Abbiamo inserito in più quella specie di edicola, perché ci siamo resi conto, andando in alto adice, che lì è pieno di raffigurazioni, di croci. Ci sono molte croci a livello decorativo. Abbiamo quindi voluto, e anche edicole, quindi abbiamo voluto aggiungere questa edicola per recuperare anche lo stile, l'atmosfera percepita da noi durante i nostri viaggi. Poi nel gioco ci sono anche varie decorazioni all'interno delle case, però per dirvi è stata anche un'attenzione di quel tipo. Arrivo in fondo, quindi l'importanza di, per chi fa giochi legati al territorio, ed è giusto dirlo, di conoscere i luoghi, visitarli. Nel nostro caso è stato anche utile perché abbiamo fatto tantissime fotografie di Curon che poi sono finite nel gioco all'interno di alcune schede informative, un po' tipo Assassin's Creed, che sbloccano, che si possono leggere se uno ha piacere di farlo. Ma la cosa importante, e qui chiudo, è che andare nei luoghi, parlare di territorio, vuol dire parlare di persone, vuol dire avere a che fare con culture locali, più o meno locali, ma vuol dire anche fare attenzione e portare anche rispetto ai luoghi. Parlare di Curon, per noi è stato molto complesso perché abbiamo voluto capire cosa i curonesi, e come i curonesi vivono ancora quell'evento. E vi assicuro che ancora oggi lo ricordano con molta sofferenza. Quindi qui vedete alcune immagini di noi al museo, durante i sopralluoghi, siamo confrontati con delle guide locali che ci hanno raccontato bene la storia del borgo. Quindi un po' questo, raccontare l'Italia nei videogiochi è uno strumento ovviamente molto utile a livello turistico, giusto che sia anche così, ma non dimentichiamo anche l'aspetto divulgativo. Al di là che una persona vada o non vada in un luogo, dopo aver giocato, non sottovalutiamo appunto questo aspetto di poter raccontare il nostro paese, il nostro patrimonio, anche attraverso i videogiochi, con l'assessibilità che spesso queste storie meritano. Quindi questo è un po', direi che sono stato nei tempi, sono le sette meno un minuto, per cui... Assolutamente sì, Andrea, li hai omagliati, non hanno fatto cenno neanche per un secondo in chat, quindi sollecito invece sia sia le vostre domande che invece anche delle osservazioni, delle riflessioni, sono qua apposta e questo tempo proprio dedicato a questo. Avete qualche curiosità rispetto a questo tema, rispetto a qualche gioco che avete, di cui ho parlato? Io sono qui, mi fa piacere anche un po' raccontarvi qualche esperienza. Se avete piacere, oltre che scrivere in chat, da questo momento potete anche attivarvi il microfono, sono le preferite di modalità. Intanto che... Intanto vi metto un po' piaccio. Lascio anche il link di Ivi, però se vogliono poi anche visitare la mappa dei giochi, ve lo metto qui in chat. Può essere anche divertente esplorarla, cercare le regioni, capire un po' quanti giochi ci sono in questa regione, che luoghi sono rappresentati di quella regione all'interno del gioco, quindi... Ecco, non approfitto io per farti una domanda, ispirata un po' da quello che ci scrive Alberta in chat, che dice, grazie, è molto interessante, non ho mai giocato, ma ci proverò sicuramente. Ecco, tutti i giochi possono essere adatti ai neofiti, o secondo te, insomma... No, secondo me... Si va per gradi. Secondo me si va per gradi, nel senso che, come prima dicevo, ad esempio, se io fossi uno che non gioca, partirai forse da una visual novel come 20 mesi, che è più facile da approcciare, perché richiede fondamentalmente di seguire un racconto illustrato interattivo, in cui decidere un po' i dialoghi, la narrazione come procede. Quindi non richiede altro che sapere utilizzare il mouse e interagire con le illustrazioni. Sicuramente magari ad una prima esperienza non proporrei Assassin's Creed, che richiede comunque una competenza anche di gioco, saper usare il controller, muoversi in questi mondi comunque molto ricchi e stratificati. Quindi sì, sicuramente esistono giochi, come dicevo all'inizio, molto diversi per contenuti, ma anche per abilità richieste. Per cui sicuramente esiste un modo... Io consiglierei una ludografia per gradi, ecco, quindi partire mai da giochi più semplici. Però appunto sicuramente ad esempio 20 mesi ve l'ho consigliato anche per questo motivo, perché ho immaginato che magari se tra di noi c'è qualcuno che non ha mai giocato, è un buon modo per affacciarsi. Il gioco è gratuito, si può scaricare in qualsiasi momento su PC, quindi uno potebbe finire questo seminario e dire me lo scarico e domani con calma lo gioco e richiede appunto fondamentalmente di godersi queste illustrazioni interattive e leggere un po', leggere anche, perché di fatto è molto pensato sulla lettura, leggere questa storia e vedere un po' dove ti porta. Cinzia ci dice, è veramente interessante e inaspettato il ruolo del videogioco. Mi fa piacere, nel senso che... No, perché mi piace quando scrive inaspettato. È quello che dicevo all'inizio, è per quello importante parlarne, perché spesso ci si ferma a un po' a quello che leggiamo nei giornali, a quei pochi giochi che vengono raccontati nelle grandi riviste. Invece c'è un mondo dietro di produzioni anche indipendenti, generi diversi, quindi parlarne a volte apre anche un po' di curiosità e torniamo al tema di prima. In qualche modo questo seminario risponde anche un po' anche al concetto, anche in questo caso, di apprendimento tangenziale. Magari in questo seminario si stimola un interesse verso un gioco e si andrà a giocare al gioco. È un po' quello che il gioco può fare verso il territorio. Vedo già altre domande. Sì, se il gioco di Corona è a pagamento. Sì, è a pagamento, ma abbiamo ottenuto un prezzo molto popolare. Il gioco costa 6,90. L'idea era proprio quella di avere un piccolo costo per il lavoro svolto, perché due anni di lavoro comunque il team ha lavorato per due anni per quel gioco. Però allo stesso tempo volevamo che il gioco fosse accessibile e non avesse quindi un costo, perché spesso un gioco come Assassin's Creed appena esce nei negozi, essendo un grande blockbuster, costa anche 60 euro. Però ecco, i giochi indipendenti molto spesso hanno costi minori, per cui si va su cifre molto più basse, 15 euro. Curoni in particolare è una cifra di questo, di 6,90. Quindi è un gioco, per ora è solo su PC e Mac. In futuro ci piacerebbe portarlo anche su console, ma ci stiamo lavorando. Sì, Chiara ci fa una domanda invece più su i Vipro. Cioè, oltre a fornire il database dei luoghi, offre anche un supporto agli sviluppatori nell'entrare in contatto con eventuali istituzioni, interlocutori per trovare anche finanziamenti? Sì, allora noi facciamo proprio da ponte tra chi ha un'idea creativa, uno studio di sviluppo e le istituzioni. Per cui, come dicevo, prima abbiamo messo in contatto lo studio che stava lavorando a The Hand of Glory con il Comune di San Leo, questo insieme anche alla Film Commission dell'Emilia-Romagna. Per cui noi lavoriamo molto con le Film Commission regionali. In Emilia-Romagna ce n'è una molto attiva e anche molto attenta a questi temi, per cui diciamo che il nostro è un lavoro di... Sì, facciamo un po' da ponte se necessario, insieme anche alle Film Commission per mettere in contatto. Perché siamo resi conto, in realtà, che non sono mai parlate molto le istituzioni con chi sviluppa videogiochi. Sono due mondi che sono sempre parlati abbastanza poco. Invece è importante farli dialogare perché possono nascere delle belle collaborazioni. Quindi diciamo che il nostro apporto è soprattutto su questo primo incontro tra queste realtà e anche un lavoro di ricerca narrativa. Per cui abbiamo lavorato di recente ad un... Abbiamo collaborato con un gioco che si inventava in Umbria tra Spoleto e la Valnerina. Siamo andati noi sotto incarico dello studio di sviluppo per tre giorni a fare sopralluoghi e a raccogliere materiale fotografico e narrativo che poi è confluito nel loro gioco. Quindi un'altra cosa che noi facciamo come associazione è questa fare ricerca narrativa per eventuali lavori in corso. Non vedo altre domande. Io prendo tempo nel ricordarvi per favore di compilare il questionario. Sono un po' sessiva su questo tema ma davvero è molto importante perché essendo comunque un progetto per i cittadini gratuito è molto importante per noi dare conferma anche di come stanno andando i webinar e quindi dare riscontro anche rispetto al vostro interesse su questi temi per avere la possibilità anche eventualmente di approfondirli o fare anche delle repliche di eventi come questi. Quindi vi ho lasciato in chat il link che trovate anche molto semplice quindi se lo copio e incollate poi potete anche poi compilarlo con calma mentre vi do anche qualche riferimento sui prossimi incontri che abbiamo sempre liberi e gratuiti organizzati da PanInternet a partire da lunedì infatti partono tre incontri dedicati a foto e video foto e video come strumento anche da utilizzare facilmente con uno smartphone il primo incontro è dedicato proprio agli strumenti alla tecnologia alla tecnica che è appunto il tre di maggio mentre il cinque di maggio si parlerà del progetto fotografico mentre è l'ultimo incontro che è il dieci di maggio si parla del vero e proprio progetto video perché se siete interessati sia per nel tempo libero o per ragioni lavorative della con dire comunque come realizzare un video anche a livello amatoriale vi consiglio questo appuntamento sul sito paneinternet.it poi trovate anche gli altri appuntamenti verso la fine di maggio abbiamo anche degli incontri invece dedicati alla sicurezza online mentre sono sempre aperte le iscrizioni invece per i corsi di alfabetizzazione sia per l'utilizzo del computer che per l'utilizzo dello smartphone e a questo punto direi che se non ci sono altre domande siamo arrivati alla fine di questo webinar io ringrazio tantissimo Andrea Dresseno veramente è un viaggio perché effettivamente è stato un viaggio davvero molto interessante e quindi grazie a tutti per la partecipazione grazie a voi una buona serata e a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti